Se si continua con tasse e tagli, Grillo avrà la maggioranza, arriverà al 51%. La stabilità politica è essenziale, altrimenti non si mantengono gli impegni presi. Parola di Enrico Letta, che garantisce, la legge di stabilità sarà equilibrata. Ma il tempo stringe. Lunedì il testo dovrebbe arrivare in aula al Senato per il voto. L'obiettivo rimane quello di far uscire il testo da Palazzo Madama entro il 27, precisa il sottosegretario alla Presidenza, Legnini. In Commissione Bilancio si lavora a tempo pieno. Oggi alle 13 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti di relatori e governo. Tra le ultime novità c'è la rimodulazione del cuneo fiscale. Un emendamento del PD concentra ora le detrazioni sui redditi compresi tra gli 8.000 e i 35.000 euro annui. Il testo originale arrivava fino a 55.000 euro. Il massimo delle detrazioni si otterrebbe comunque sui redditi tra i 15.000 e i 20.000 euro. Oltre questa cifra, la detrazione andrebbe a ridursi per poi azzerarsi a 35.000 euro. Per coprire l'abolizione della seconda rata dell'imposta municipale unica, l'odiata IMU, non si ricorrerà all'aumento delle accise sulla benzina. Almeno non subito, spiega ancora Legnini. È una clausola di salvaguardia per il 2015. Ci sarà tutto il tempo per evitare l'aumento. Qualcuno ci spieghi perché si vuol finanziare la cancellazione della seconda rata IMU con l'aumento delle accise sulla benzina a partire dal 2015. Cioè fra due anni, chiede il presidente dei deputati di Forza Italia, Brunetta. Si continuano a riempire i documenti governativi di mirabolanti tagli, mirati, selettivi, intelligenti di spesa. Ma alla fine, dice Brunetta, si prevede sempre che scattino o finiscano per scattare solo e unicamente le clausole di salvaguardia e i relativi tagli lineari o aumenti di imposte. Chi si vuol prendere in giro? E a proposito di rinvii, potrebbe slittare dal 2014 a 2015, grazie ad un altro emendamento, se passerà, il maggior prelievo fiscale sulle sigarette. Minori entrate previste per lo Stato l'anno prossimo, 50 milioni. In queste ore i senatori della rinunata Forza Italia, Bonfrisco, Ceroni, Malan, Mandelli e Milo, denunciano. La legge di stabilità prosegue il suo iter parlamentare in maniera confusa, parziale, senza una linea, in attesa di ordini dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Del resto Forza Italia si sta astenendo nelle votazioni sugli emendamenti e l'astenzione al Senato, sia in Aula sia in Commissione, lo ricordiamo, equivale a voto contrato.